Ciao a tutti ragazzi! Oggi vi faremo vedere un vlog sulla roba finice, ma non tutta perché prima cosa ci perdiamo. Seconda cosa non ci possiamo andare. Però anche mia zia lavora qua e possiamo fare qualcosa. Cioè, non lo so veramente, però mia zia lavora qua. E oggi partiamo da qua che siamo nei giardini perché ci sono 130 giardini qua dentro. Va bene, allora noi iniziamo, andiamo. Allora, queste qua sono le scale, farle vedere Antonietta. Poi c'erano tutti i cuscini, è bellissima. Poi vi facciamo vedere la fontana. E questa qua è fantastica. Poi c'è un'altra cosa, però è una sorpresa. Andiamo. Qua prima c'erano. Andiamo a una, sulle scale che ci sono altre luci. Poi quasi. Allora, vogliamo saprare a Carello, Somma e a Francesco. Qua di Massimo. Andi un attimo nel telefono. Questa qua è dove a volte, cioè a volte si possono sedere, mangiare il caffè, bere, veramente non mangiare, non ti può mangiare il caffè. Si beve. Questo qua è la mattina, semmai, perché qua ci sono molte stanze dove puoi mangiare, dato che ha cinque stile. È grandissimo praticamente. Qua invece c'è tipo un... E' Antonietta. Vabbè, lo sapete che è Antonietta. Comunque qua c'è tipo un tunnel. Non mi far cadere la borsa. Cioè non è un tunnel. È tipo un... Come si chiama questo conto qua? È tipo un gazebo dell'amore. È bellissimo. C'erano tutti i cuori. Adesso ora vi faremo vedere delle scale con le luci. E là non so se lo vedete. C'è tutti i cuori. È bellissimo. Ve lo faremo vedere dopo. Un attimo, Antonietta, mi sta chiamando. Guardate la fontana. Iscrivetevi al canale CSOM005 e al canale Katy and the Boy di Masi. Bene. Questo qua sono degli scambianti con le lucibellissime. Ve lo vedete. Aspetta. Si vede una chicca. Un cabello. Qua se volete vi potete comprare pure qualcosa perché c'è anche il bar. Qua stanno riprendendo dei mitati perché c'è anche un matrimonio. Cioè ma che domanda. A un hotel non c'è il bar. Scusa. Perché c'è un hotel di bar. Andiamo all'astroca. Stiamo vedendo qua. Dove? Andiamo all'astroca. Poi saliamo su qualcosa però non sappiamo se passiamo. Quindi è... Diciamo perché noi siamo qua. Ah sì perché. Allora ci hanno dato un invito per farevi dire un video, un meeting della protezione civile. Per la nostra protezione. Protezione. A tutta la scuola, a tutta la vestitura che altavi le senti no? Beh nei commenti diteci se a voi, dite veramente, se a voi hanno mandato questo invito. Dove abitate. Se ve l'hanno mandato come sta, come è stato. Adesso andremo dall'altra parte dove c'è una piscina favolosa. Non fa male il braccio. E prima c'era anche un capallone per i selfie. Poi vorremmo vedere un giardino immenso. Adesso guardate qua. Questo qua è la rocchetta. Non mi ricordo. Vabbè, questo qua era una parte di... Sì, era la reception. Tu me... Porco. questo qua non so cos'è questo qua c'è un'altra sala ci sono tipo 100 sale qua dentro ora cerchiamo di andare nella piscina penso ah si eccolo qua c'è la parte per il giardino ah qua c'è un'altra sala fuori per se volete fare un brindisi però c'è anche giù il brindisi qua c'è una sala e là c'è un'altra però è grandissima poi là ci sono le stante l'albergo adesso andiamo nella piscina andiamo a Donietta mi dico che pare a Donietta poi qua c'è un altro giardino io lo sapevo proprio sai ma nemmeno me lo faccio vedere e qua ci sono le luci perché la vita è di notte chi deve scendere c'è la luce vediamoci un po' attacco lo scatto se vi è piaciuto questo video già lo vuoi finire no se vi è piaciuto questo video mettete mi piace ancora non è finito come ha detto lei vi faremo vedere il panorama intanto non sarà un vlog go tipo un'escursione finché mi sento nell'alba di suonico di quello che è una vita a parte in cassa di quello che visco luce ecco luce però se andiamo di nuovo giù Antonietta ci troviamo di nuovo là quindi dobbiamo rigirare e andare in piscina ciao a